Beh, allora, è chiaro che quando giocavo al Milan pensavo solo al Milan, perché chiaramente questo è quello che è, sicuramente la partita con la Juve era una partita speciale per quello che rappresentava la Juve per me, però devo essere sincero, quando ho segnato contro la Juve è stato qualcosa di incredibile, poi la partita è finita 1-0 con un gol mio, credo che tantissimi mi hanno odiato, però in quel momento lì ero felicissimo, perché chiaramente giocavo al Milan e l'unica che non era felice era mia nonna, che come sapete mi aveva fatto la battuta che doveva finire 1-1 perché era regolare il gol di Pianici.